Ottimi risultati del CPGA ai campionati regionali di pattinaggio a pista che si sono svolti a Martinsicuro. 22 i atleti agonisti presentati dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano. Ottimi risultati ottenuti da questi atleti nelle rispettive gare, tanto da totalizzare 3 medaglie d'oro, 3 medaglie d'argento, 7 medaglie di bronzo. Il CPGA si è anche classificato seconda società assoluta nella classifica regionale, dietro la rolling pattinatori Bosica e davanti al Centro Sportivo Pattinaggio di Pescara. Ottimi risultati per Ludovica Dionisio, Camber Schekerdai, Dalia Visconti, Rebecca Properzi, Cecilia Pantaleo, Laura Badia, ma anche da Elaria Perilli, Maurizio Urbani, Alessio De Lauretis e Miconi. Molto bravi anche i piccoli della categoria Pulcini, che hanno dato il meglio nelle gare non competitive a loro dedicate, come Beatrice Caserta e Simone Mosca. Il 19 aprile Rebecca Properzi e Cecilia Pantaleo partiranno per partecipare alle gare internazionali DJ Singen in Germania, che si svolgeranno 20, 21 e 22 aprile, mentre gli iscritti del CPGA al Challenge Centro Italia andranno a competere alla Dispoli.